Ad un anno dall'avvio del progetto In Punta di Piedi, mirato ad assistere e supportare le donne vittime di violenza di genere, l'associazione Pink Project di Capodorlando ha deciso di fare il punto sull'attività svolta, ma soprattutto di creare un vero e proprio coordinamento tra enti e associazioni per un unico protocollo operativo. Lo ha fatto in un'occasione speciale, quello dato dalla giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nell'aula consigliare orlandina, davanti ad una platea composta dai rappresentanti di diversi ordini professionali, è stato presentato il protocollo per le comuni strategie, piani di sviluppo e piani operativi di intervento per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. Purtroppo ancora c'è poca sensibilità e la gente forse non è educata abbastanza a questa rivoluzione che dovrebbe entrare nell'ottica di chi vive nella società e dovrebbe combatterla. Spesso ci sembrano dei problemi lontani da noi, invece non sono lontani, perché anche alla porta accanto ci sono tante donne che li vivono e non hanno il coraggio di denunciarle. Maria Grazia Giorgianni e Deborah Galipò dell'associazione Pink Project hanno poi presentato un bilancio del centro antiviolenza aperto a Capodorlando, riferimento dei comuni che fanno parte del distretto sociosanitario di 31. Noi abbiamo avuto 12 tra donne e bambini che sono state inserite in misure di protezione in accoglienza residenziale, che allo stato attuale abbiamo 5 donne di cui curiamo ogni aspetto della presa in carico. solo nell'ultimo mese si sono aggiunte a queste altre 3 donne che hanno fatto richiesta di accesso ai nostri servizi. Purtroppo i dati non sono uniformi in questo momento, perché le richieste sono veramente molto diverse, la provenienza è molto diversa. Oggi utilizziamo anche canali non convenzionali come i social, dai quali comunque ci pervengono richieste di informazioni, richieste di assistenza, che ovviamente cerchiamo di indirizzare al meglio. Grazie a tutti.